Buongiorno a tutti, sono Federico Bonella, sono una guida d'Artem. Oggi vi porterò al Museo del Novecento per parlarvi di un'opera emblematica, Il Quarto Stato, un'opera realizzata da Giuseppe Pellizza da Volpedo tra 1898 e 1901, dopo che l'artista ne aveva eseguita almeno altre due versioni nel decennio precedente. Soggetto della tela è la presa di coscienza del proletariato, rappresentato come una massa di braccianti a grandezza naturale che marcia compatta in segno di protesta contro la mancanza di diritti dei lavoratori. La marcia però è calma e tutto lo spazio sembra venire travolto serenamente dal loro avanzare, un avanzare che parte da quel cielo fosco sullo sfondo, simbolo di un presente pieno di timore e insicurezze, per avvicinarsi al primo piano, dove la luce è calda e fortissima, quasi accecante. Questa luce è il futuro e viene tradotto grazie alla fitta trama di sottili pennellate tipica della pittura divisionista. Tutti i personaggi sono accomunati dal sentimento di fiducia in questa luce, da una speranza per un futuro più luminoso, un messaggio che credo sia valido oggi più che mai. Il novecento è un secolo di grandi novità, di cambiamenti, di trasformazioni e di rivoluzioni. Un secolo, non dimentichiamolo, che in Italia comincia con l'uccisione del re Umberto I. Qualche tempo dopo scopre la prima guerra mondiale, poi ci sarà una rivoluzione in Russia, e questo solo per fare riferimento a quello che è l'inizio del nuovo secolo. In storia il novecento viene definito spesso il secolo breve. Come fa un secolo ad essere breve? Un secolo naturalmente dura sempre cento anni, però questa definizione ci permette di comprendere come in effetti tutti percepirono la velocità con cui questi cambiamenti straordinari stavano avvenendo. Non dimentichiamoci che Il Quarto Stato non fu un dipinto immediatamente apprezzato, anzi nel 1902, quando Pellizza da Volpedo andò a presentarlo alla quadrinnale di Torino, il dipinto ricevette delle critiche pessime. Il successo dell'opera comincia qualche tempo dopo, all'inizio degli anni venti, nel momento in cui il quadro di Pellizza venne esposto in una galleria d'arte a Milano. Tutti in quel momento percepirono la modernità straordinaria di questo grande quadro, ma siamo ormai, non dimentichiamolo, in un momento in cui appunto il mondo è completamente cambiato. Probabilmente guardando Il Quarto Stato percepiamo immediatamente la modernità del soggetto, dell'opera. Non dimentichiamoci però della modernità della tecnica con cui l'opera viene realizzata. Pellizza da Volpedo è uno dei principali protagonisti del divisionismo italiano. Si tratta sostanzialmente di recuperare le idee dei neoimpressionisti francesi, Serat e Signac, e di applicare alcune nuove scoperte scientifiche all'ambito dell'arte. In un momento in cui la scienza comprende che la nostra retina percepisce la realtà in tante particelle separate l'una dall'altra, il progetto è quello di applicare questa grande scoperta alla realizzazione dei dipinti. I colori non saranno più mischiati, verranno utilizzati puri, le pennellate saranno tutte separate l'una dall'altra. Se tutto questo viene applicato dal pittore in maniera corretta, sarà poi il cervello di chi osserva l'opera a ricostruire l'opera nella sua interezza. Direi che Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo è un dipinto perfetto per cominciare questo nostro viaggio lungo nel secolo breve.